In questo momento le ragazze qui accanto a me sono il fiore all'occhiello della comunità gioiosana, sono il fiore all'occhiello perché hanno dato prova intanto di grande solerzia e dedizione ma anche di professionalità. Questo naturalmente il merito e in dubbio va a Clio Maraffa in primis ma oltretutto anche agli altri perché lei così dal nulla ha riportato in vita una squadra di pallavolo, le ragazze qui accanto a me sono le componenti di questa squadra e comunque dando vita naturalmente a uno sport che oggi sembra che non solo in auge ma sembra proprio che la vittoria ce l'abbia sotto mano. Allora Clio intanto i complimenti perché sono doverosi e non sono complimenti di rito ma sono veramente dei complimenti sentiti. Parliamo allora di questa Saracena Volley perché così si chiama la squadra che tu alleni. Allora è un gruppo che si è formato nell'agosto del 2012. Ci trovavamo un gruppo di amici a parlare della pallavolo, degli anni della giocoletta e ci siamo ritrovati a parlare di questa pallavolo, di questo sport, di questa passione che io e la mia famiglia abbiamo sempre avuto e abbiamo iniziato a parlare insieme al presidente, insieme ad altri componenti di mettere su questa squadra di pallavolo. Il nome della squadra accomuna tutto il territorio, è stato scelto appunto la Saracena per cercare di coinvolgere tutto il territorio, Iaga, Gioiosa, Sabrolo, San Giorgio. Siamo partiti a settembre al campetto qui a Gioiosa e non avendo purtroppo la possibilità di giocare qui nel nostro paese ringraziamo tantissimo il comune di Piraino e la scuola media che ci ha dato la possibilità di iniziare questa avventura. Clio, questo è un percorso nato da poco però con le ragazze che sono qui accanto a me hanno fatto parte della polisportiva, sono Giovanna Bongiovanni, abbiamo Stefania Spinella ed Elena Magistro che peraltro, ora spiegherai anche questo, fa parte non della seconda squadra ma comunque di quella che naturalmente si spera un giorno possa non prendere il posto di queste ragazze perché se no me le danno. Scusami, già stai iniziando a fare parte della seconda divisione, ieri abbiamo avuto la prima partita dei playoff e lei è stata una delle titolari in campo. Le piccole stanno facendo vedere i loro progressi e la loro voglia di crescere. Intanto Clio devo dirti una cosa, sono arrivate a me personalmente tante attestazioni per voi di ragazzi di Gioiosa perché non ne sconoscevano questa vostra attività e voi siete comparsi con queste vittorie, cioè un susseguirsi di vittorie. È stato appunto un progetto nato da un gruppo di amici per iniziare, abbiamo chiamato Giovanna che era da anni che non giocava a pallavolo, abbiamo ritrovato il nostro capitano, abbiamo chiamato Serena che ha giocato in Serie C, ma parliamo di ragazze ferme da anni e anni e tutto è iniziato per gioco. Iniziamo, giochiamo, facciamoci gli allenamenti, poi si è formato il gruppo, si è formata la voglia di vincere, il presidente, la società hanno creduto in noi, i tifosi piano piano sono diventati sempre di più. È nata la voglia di vincere, di salire di categoria e di andare avanti. Il progetto Putti, il presidente in primis, lo vuole portare avanti, vuole portare le ragazze a livelli molto più alti. Allora parliamo di Luca, diciamo chi è il presidente appunto? Il presidente è Luca Leone ed è stato proprio lui insieme a mio padre a mettere in campo questo sogno, questo progetto. Questa grande squadra che così possiamo dire. Allora Giovanna è vero che facevate parte di una squadra, eravate ferme da tanto tempo, però dobbiamo pur riconoscere che Clio abilmente vi ha riportato in campo facendovi vincere. Di voi si parla sempre di una squadra con vittorie consecutive. Allora Giovanna come ti senti, tu che sei mamma comunque, moglie e mamma, a rientrare in campo? Questa è stata comunque una bellissima esperienza perché mi sono rimessa in gioco. Franco, Maraffa e Clio mi hanno chiamata a settembre e io ho accolto con piacere comunque questa loro proposta perché la mia passione per la pallavolo è grandissima e l'ho rispolverata e quindi per me è stato un onore. Devo infatti ringraziarli perché insomma è stata veramente una bella esperienza e spero che continuerà ancora. Io me lo auguro veramente perché quando ci sono risultati di questo tipo sarebbe veramente un peccato abbandonare ma appunto siamo convinti nel vostro impegno che sarà sempre portatore di ancora successi. Stefania se te la senti di parlare, ecco se vuoi dire qualcosa anche tu che peraltro il vostro capitano, ecco Stefania Spirella, anche lei dico non è nuova anche perché l'anno scorso seppur per poco tempo ha fatto parte della squadra di San Giorgio per cui come dire ecco una passione che rinasce sempre. Io devo dire che sono molto contenta di far parte di questo splendido gruppo che si è creato e ringrazio tantissimo appunto Clio e Franco che anche a me e che anche a me come Giovanna mi hanno chiamata e sono stata molto entusiasta di questa cosa anche perché per un paio di anni ho mollato quindi diciamo che adesso mi sono ripresa tra virgolette la mia rivincita. Ecco come avete sentito proprio dalle due veterane c'era una sorta proprio di voglia ecco questa manifestata in questo momento ma sicuramente accolta seduta stante quando Clio ve l'ha proposto. Clio allora facciamo un passo indietro perciò nasce quando e a che punto siete oggi e parliamo anche dei progetti futuri. Allora nasce a settembre come avevo già detto prima e abbiamo iniziato ad allenarci al campetto qui di Gioiosa. Il gruppo si è sempre di più e sempre diventato sempre più grande e abbiamo un gruppo di mini volley e super mini volley che viene allenato da mia mamma qui a Gioiosa Marea mentre un gruppo di under 13, under 14, under 16 che alleno io a Gliaga e ne fanno parte sia le ragazze di Gioiosa che prendono la macchina con le mamme tutti i giorni e vengono a Gliaga e da un gruppo che francamente non mi aspettavo, un bel gruppo formato da tante ragazzine di Gliaga di Piraino che stanno facendo dei progressi e sono forse la mia soddisfazione più grande. Abbiamo affrontato un campionato di under 16 con qualche difficoltà perché giustamente le bambine ancora non hanno l'esperienza che possono avere le ragazze grandi però hanno fatto vedere nel campionato di ritorno che sono migliorate e anche loro hanno la voglia di andare avanti e di crescere. Abbiamo affrontato il campionato di seconda divisione vincendo tutte le partite a punteggio pieno, soffrendo in qualche partita ma ci sta, il gruppo si è formato da poco e ci sta, non ce l'aspettavamo queste vittorie ma lottando fino alla fine abbiamo vinto tutte le partite e siamo arrivate prima nel girone. Domenica c'è stata la prima partita dei playoff, soffrivamo nel primo set ma anche là grazie ai tifosi, ai tantissimi tifosi di Gioiosa siamo riusciti a recuperare la partita e abbiamo portato una vittoria per 3 a 1. Domenica affronteremo la seconda partita di ritorno a Brolo, viste le tante persone che sono venite a seguirci purtroppo la palestra di Gliacca è piccola e non avrebbe potuto contenerle tutte, quindi colgo l'occasione per invitare tutte le persone a venirci a vedere domenica alle 18 a Brolo per la partita di ritorno. Sperando di vincere quella partita andremo ad affrontare la finale contro la squadra degli altri gironi. Allora Clio, anche perché noi sul sito vi abbiamo seguiti sempre, proprio oggi abbiamo visto anche tramite Facebook che veramente c'è un numero cospicuo di ammiratori che vi seguono, che vi esortano e che naturalmente sono anche lo sprone necessario per voi per vincere. E appunto quel tifo ieri ci ha fatto emozionare e non ci ha fatto perdere la ragione. Perdevamo il primo set, forse stavamo buttando la spugna, invece grazie a loro ci siamo riprese, grazie ai loro cori che in un palazzetto c'erano mio padre e mia madre presente, parlavamo proprio di questo, in un palazzetto di pallavolo non c'era mai stato un tifo così. Un tamburo suonato da Alberto Cucuzza con una passione incredibile e i tanti, veramente tanti tifosi e anche i genitori delle bambine dell'Under 16 ci sono venuti a guardare e a sostenere per tutta la partita. Infatti tu hai detto poc'anzi prima di iniziare l'intervista che c'erano molti più tifosi di Gioiosa che è di Milazzo, questo significa che effettivamente la voglia c'è, la voglia è anche la condivisione per uno sport nato da poco ma che vi sta dando delle soddisfazioni enorme. Tantissime soddisfazioni, ieri non solo le ragazze ma soprattutto i tifosi, il loro calore ieri ci ha fatto vincere la partita. Io comunque vedo che i vostri post sono cliccatissimi, ci sono mi piace dappertutto anche il sito si è interessato in prima persona. Ora a tal proposito vorrei dirti una cosa, dirvi una cosa sono convinta che ne converrai con me perché sicuramente grazie all'amministrazione di Piraino, grazie anche al dirigente scolastico grazie a tutti quelli che vi hanno dato la possibilità di allenarvi là però poterlo fare a Gioiosa facciamo allora un appello consistente all'amministrazione affinché esposi la vostra causa e il vostro successo. Io ripeto di nuovo, la Saracena è nata per prendere tutto il territorio e naturalmente il primo paese che farà una struttura ci ospiterà. Io a inizio di questa stagione avevo pubblicato una foto su Facebook sui Gioiosani, una foto della serie D se non sbaglio di Gioiosa Marea e mi sono state fatte delle critiche la mia non era una critica, io a 20 anni ancora ci credo in questa cosa, loro sono nate, io sono nata abbiamo giocato in un campetto in cemento e siamo gli unici nel comprensorio a non avere una struttura adatta io non parlo solo per la pallavolo, io guardo il campo di calcio, il calcio si è perso, guardo la pista di atletica l'atletica si è persa, non c'è una palestra comunale dove le nostre ragazze e i nostri ragazzi del nostro futuro possono avere la possibilità, invece di stare in sala giochi, invece di stare in giro, dopo lo studio devono avere uno sfogo questi ragazzi e non ce l'hanno purtroppo. Clio, hai centrato un problema molto importante perché questo che voi state facendo occupa gran parte del vostro tempo in una maniera sicuramente incomiabile, non è un tempo perso, non è un tempo sprecato per cui è come togliere la disperazione dalla strada, tutti quei ragazzini che vanno avanti indietro e anche ragazze di una certa età e tu invece con il tuo scopo hai voluto dare un messaggio diverso di questo te ne siamo grati noi ma sono convinta che anche quelle persone con le quali magari o che ti hanno contestata inizialmente sono certe che apprezzeranno quello che tu stai facendo perché è un gran lavoro, è un lavoro meritevole e che ha la necessità di essere corrisposto da tutti perché solamente così possiamo dire è vero abbiamo vinto, abbiamo vinto sul campo e abbiamo vinto fuori dal campo. E a vent'anni non ci si arrende, la speranza deve essere l'ultima a morire perché queste ragazzine mi hanno dato tante soddisfazioni e loro hanno la voglia di andare avanti e di fare tante cose. Effettivamente Clio si legge sui loro visi, Elena non ha voluto parlare però l'espressione è palese questo per loro è motivo di, sono fieri di questo motivo di vanto. Oltre naturalmente l'amministrazione comunale di Piraino, la scuola media, la dirigenza il fattore economico si è fatto sentire quest'anno, affrontare un campionato di seconda divisione e iniziare da capo tutto è stato comunque un impegno grosso. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, soprattutto al signor Cassarà che ci ha sostenuto sin dall'inizio in maniera speciale rispetto agli altri. Un grazie a tutti. Mi fa molto piacere che anche voi siete sul nostro sito e vi facciamo gli auguri più grandi. Grazie.